Questi primi mesi in questa fetta di Terra Santa con un'altra veste. Come ho già detto tante volte, non sono un uovo al Medio Oriente, alla Terra Santa, sono qui da 27 anni. E' questa del Vescovo qui a Gerusalemme, è una prospettiva nuova comunque, con molta umiltà, senza presunzione, devo imparare. Devo imparare innanzitutto ad ascoltare i sacerdoti, che sono coloro che poi dovranno collaborare con il Vescovo nelle prospettive, nelle sfide pastorali. Ho quasi finito di incontrare tutti i sacerdoti uno per uno nel loro territorio, ascoltare, non ho la presunzione di essere arrivato qui con ricette già pronte. Ecco, le ricette le dobbiamo preparare insieme, ascoltando innanzitutto i sacerdoti, le diverse anime della Chiesa. Il Vescovo rispetto al custode è colui che deve avere di fronte a sé tutte le realtà della Chiesa, laicali, religiose. E poi colui che è anche capace di fare la sintesi e dare anche delle indicazioni. Ecco, in questi mesi ho fatto un tour de force di ascolto delle diverse anime di questa Chiesa. Adesso avvieremo, attraverso un incontro e il dialogo, cercare le prime indicazioni di lavoro per i prossimi anni. La nuova amministrazione americana e il processo di pace in Medio Oriente, in particolare tra Israele e Palestina, che cosa è cambiato realmente? Nella vita del territorio è cambiato nulla, non è cambiato nulla. Da anni ormai le amministrazioni sia in Europa come anche e soprattutto negli Stati Uniti si sono avvicendate, ma nel nostro territorio la realtà è sempre la stessa. Quindi non ci facciamo illusioni che il cambiamento di amministrazione possa portare cambiamenti immediati sul territorio. Come ho sempre detto, i cambiamenti immediati sul territorio ci saranno quando la politica del territorio cambierà, quando le due parti, qui israeliane e palestinesi, vorranno realmente, e non soltanto virtualmente, vorranno realmente incontrarsi per arrivare a un accordo. Ahimè, non vedo questo nella prospettiva breve e medio termine, per cui il cambiamento dell'amministrazione negli Stati Uniti ha cambiato il discorso, il dialogo, certamente soprattutto con Israele, ha cambiato le terminologie, ma la sostanza del territorio è sempre la stessa. Eppure il Presidente Trump, sin dal suo insediamento, è sembrato scegliere una via anche diversa rispetto al suo predecessore. Pensiamo solo alla dichiarazione sull'intenzione di spostare l'ambasciata americana a Gerusalemme, è un atto grave, anche considerato molto azzardato. Ecco, crede che sia possibile questo realmente? E' molto difficile capire quali sono le reali intenzioni di questa amministrazione, al tempo ce lo dirà, se siamo soltanto di fronte a affermazioni generali o generiche, o slogan, o qualcosa di reale, al tempo lo dirà. Mi pare di capire che c'è già un leggerissimo cambiamento nella terminologia, nel volere rimandare un po' soprattutto queste decisioni, lo spostamento dell'ambasciata e così via. Vedremo con il tempo. Certamente il linguaggio rispetto all'amministrazione precedente, quella di Obama, è completamente diverso. Però, ripeto, non ci facciamo illusioni che le cose possono cambiare radicalmente nella vita del territorio, dove soprattutto in ambito palestinese restano molto difficili e molto complicate, se non drammatiche, in certe zone. Ma se questa ipotesi dovesse andare avanti, quali sarebbero le conseguenze? Sarebbero molto gravi, certamente. Sarebbe, io penso, una risposta molto dura da parte dei paesi arabi, dei paesi islamici. Sì, è una reazione molto forte anche qui nel territorio, dalla gente. Insomma, credo che creerebbe, insomma, solleverebbe una mare di difficoltà a livello internazionale e anche locale. Il governo Netanyahu, però, sembra aver preso coraggio dopo l'elezione di Trump, in particolare rispetto alla politica degli insediamenti. Questo vi preoccupa? Non è un grande cambiamento, perché la politica degli insediamenti non è una novità, continuerà, sta continuando come c'era anche con Obama. Insomma, ecco, forse con linguaggio diverso, ma la sostanza sul territorio è sempre la stessa. Credete che voi auspicate un intervento della comunità internazionale più duro rispetto a certi atteggiamenti? L'Europa internazionale ha un ruolo importante nel tenere alta l'attenzione, certamente. Ecco, è importante parlarne, se ne parla sempre meno. Il conflitto israelo-palestinese è ormai messo in secondo piano rispetto ai drammi, ahimè, molto più gravi che sono intorno a noi, penso soprattutto alla Siria e all'Iraq. È importante riportare questa questione al centro dell'attenzione internazionale. E l'Europa si è dimenticata di voi? L'Europa mi sembra molto ripiegata su se stessa in questo momento, sui suoi problemi e ha sempre meno attenzione a ciò che accade attorno a lei. L'unica attenzione che hanno è riservata alla questione dei profughi, che vengono sempre dal Medio Oriente, dai paesi del Nord Africa, ma sempre in chiave un po' autoreferenziali. Le conseguenze che sono sull'Europa, ma senza guardare le cause di questi spostamenti che sono dovute alle grandi crisi politiche e sociali qui. Lei ha fatto riferimento alla questione dei profughi. Il vostro territorio, nonostante le grandi difficoltà interne, comunque sembra più accogliente rispetto all'Europa, che avrebbe altre possibilità e sicuramente diverse condizioni economico-sociali. Come mai? Do qualche cifra, altrimenti resta tutto un po' vago. In Giordania ci sono quasi 7 gli abitanti della Giordania. I profughi da Siria e Iraq sono circa 3 milioni. Quindi una cifra enorme. In proporzione siamo al 30% della popolazione, se non di più. Con conseguenze molto gravi sul piano sociale, ma anche nelle infrastrutture. L'acqua, che è da sempre un problema molto grave in Giordania, con 3 milioni di abitanti in più, scasseggia per tutti. Ciò nonostante, la Giordania e il governo hanno accolto tutte queste persone che altrimenti non saprebbero dove andare e sta facendo, attraverso l'organismo internazionale, naturalmente non da soli, tutto il possibile per dare un'accoglienza il più possibile dignitosa. gran parte di questa popolazione, che molto spesso non può rientrare. Gran parte degli iracheni non può rientrare nelle zone di guerra, dove c'è ISIS. In Siria adesso la guerra si sembra temporaneamente calmata, anche se non è conclusa, ma non sanno dove andare. Ed è una situazione sociale molto grave. Devo dire però che, nonostante tutto questo, l'accoglienza è incommiabile. Torniamo per un attimo alla questione politica. Riguardo al processo di pace si è sempre parlato di una soluzione, che è anche quella della diplomazia vaticana, di due popoli, due stati. Con la nuova amministrazione si è tornati a parlare di uno Stato. Anche questo è semplicemente un cambiamento di linguaggio? Bisognerebbe chiederlo a loro, perché non si riesce molto a capire, attraverso i messaggi Twitter, qual è la politica di uno Stato. Insomma, ci vuole qualcosa di più serio. Ecco, il negoziato di pace, diciamo la verità, è fermo da anni. Quindi parlare di negoziato di pace oggi non ha molto senso, è una grande ipocrisia. Non c'è nulla a riguardo. La soluzione dei due stati è quella internazionalmente riconosciuta. Se c'è un cambiamento reale nella politica e nella visione statunitense, cercheremo di capirlo, lo vedremo più avanti. È un cambiamento non solo di linguaggio, è un cambiamento anche di dinamiche, di metodologie, di comunicazione che certamente lasciano un po' perplessi, insomma non ci fanno capire molto. Il tempo ci farà capire. Certamente con la politica degli insegnamenti, che continua, diventa sempre più difficile portare avanti questa idea di due popoli e due stati. La diplomazia della misericordia, la diplomazia del pontificato di Papa Francesco, che ha riscosso dei successi indubitabili in altre aree del pianeta, perché in questa zona sembra impotente? La misericordia non fa chiasso. Voi parlate sempre, guardiamo sempre la politica, dei grandi politici. Bisogna guardare il territorio, la vita della gente. Certamente c'è tantissima violenza, perché la violenza la rispiri dappertutto, ma sarebbe ingiusto limitarsi a parlare solo di questo. Ci sono tantissime associazioni, movimenti, gruppi, famiglie, persone, normali, semplici, che hanno fatto della misericordia il loro stile di vita. Persone che si mettono in gioco per aiutare i disabili, nelle scuole, negli ospedali, nelle diverse realtà del territorio. Tu incontri tantissima gente, non incontri soltanto Isis, incontri tantissima gente che si spende per gli altri, che va incontro, che non permette alle proprie ferite, proprio del loro, e di diventare il criterio di lettura della vita del mondo. Per cui, anche qui, c'è la misericordia, che ripeto, non fa chiasso, non ha i primi titoli dei giornali, che però c'è, esiste. Lei è stato uno degli artefici dell'incontro di preghiera di pace, voluto da Papa Francesco in Vaticano. alcuni dei protagonisti di allora, ora non ci sono più. Rispetto a quell'evento che aveva suscitato grandi speranze, ora siamo indietro, abbiamo fatto un passo indietro? No. Quel gesto era importante, resta importante, e bisogna farne altri anche in futuro, perché abbiamo bisogno di gesti, abbiamo bisogno di gesti esteriori, grandi, che ci facciano vedere che è possibile parlarsi, è possibile incontrarsi. Nessuno si faceva illusioni allora, e nemmeno ora, che sarebbe scoppiata la pace. Ecco, la pace la devi costruire passo dopo passo, poco alla volta, nella formazione, nell'educazione, soprattutto dei giovani e delle nuove generazioni. Ecco, non si è tornati indietro, ci saranno alti e bassi come sempre, ma resta comunque il cammino, l'impegno di tutti. Ecco, quel gesto non voleva segnare un cammino di pace, percorso. Voleva dare un'indicazione di metodo, ecco, che resta ancora valido oggi. Uno di questi passi verso la pace, almeno al Vaticano, è sembrato il riconoscimento dell'ambasciata, l'apertura dell'ambasciata palestinese presso la Santa Sede. Le reazioni del governo israeliano sono state negative? Le ricadute qui sul territorio? Nulla. Ripeto, con una volta, la politica, la grande politica, ha le sue dinamiche e arrivano sul territorio in maniera molto dosata. Ecco, anche perché poi c'è una saggezza nel territorio, insomma, che bisogna guardare la vita reale, le persone, le istituzioni, e così via. Ecco, per cui non è cambiato molto, né nella vita della Chiesa in generale, né nelle relazioni con le autorità sia israeliane che palestinesi. Da anni ormai c'è un esodo continuo dei cristiani. Naturalmente la crisi nel nord Iraq e in Siria ha acuito anche questo fenomeno. C'è qualche segnale di contrattendenza oppure invece c'è un aggravarsi della situazione? Purtroppo il fenomeno continua. Certamente misura molto maggiore da Siria e Iraq. È una situazione molto grave. In Iraq ormai la presenza cristiana è rimasta meno di un terzo di quello che c'era, quello che era prima della guerra e la Siria va in una stessa direzione, purtroppo. D'Aleppo prima della guerra erano 300.000, i cristiani oggi non arrivano 50.000. Ecco, con situazioni sempre più gravi. Anche da qui, dalla Terra Santa, c'è non in termini con un percentuale così elevate, ma c'è un continuo inesorabile esodo, soprattutto da parte della classe media. Non sono i poveri da andarsene. Sono coloro che hanno la maggiore visibilità pubblica. Gli insegnanti, gli avvocati, gli architetti, insomma la classe media. Non credo alla scomparsa definitiva della presenza cristiana qui. Temo però una sempre minore visibilità. Ecco, non basta essere ci, bisogna avere qualcosa da dire e da proporre alla società. Un altro frutto della presenza di Papa Francesco su questa terra, il dialogo ecumenico e interreligioso, anche in questa situazione di perenne tensione, è cambiato qualcosa? Certamente sì. Questo è uno dei frutti più evidenti della visita di Papa Francesco qui, ma anche delle guerre religiose in me, del resto del Medio Oriente. Le relazioni tra le chiese sono migliorate decisamente, ma in maniera anche visibile e sensibile. un esempio molto chiaro, tangibile, sono i restauri nella Basilica di Santo Sepolcro. Dopo 70 anni di discussione si è sciolto tutto, improvvisamente, ecco, si è arrivato a un accordo e che però ha fatto un po' da apri pista ad altre forme di incontro, di riavvicinamento anche sul piano pastorale, sul piano del rapporto tra le chiese in generale e soprattutto con la chiesa greco-ortodossa. Ed era un atteggiamento che si attendeva da anni, da tempo, insomma, soprattutto dalla nostra gente. Qui il comunismo è un problema pastorale, non è un problema teologico. Le date diverse di Pasqua e Natale creano problemi, le famiglie che vogliono celebrare Pasqua insieme e così via. Ecco, tutto questo oggi è diventato molto più alla portata di mano. Devo anche dire che le persecuzioni dei cristiani in Siria, in Iraq di questi ultimi anni ci hanno fatto prendere coscienza in maniera chiara e improvvisa che tutte le nostre piccole veghe quotidiane non avevano più alcun senso. Il vostro martirio quotidiano quindi continua? Martirio quotidiano? Martirio del sangue? Cioè l'ecumenismo del sangue? Certamente. Noi qui non abbiamo il martirio del sangue, grazie a Dio. Ecco, però voglio dire la Siria e l'Iraq non sono lontanissimi. Ecco, per cui avere visto cosa accade ai nostri fratelli non molto lontano da qui ci ha fatto prendere coscienza che qui anche noi abbiamo bisogno di cambiare il registro. La prossima Pasqua l'ultima domanda i desideri del la Pasqua noi celebriamo la vittoria della vita ecco in tutte le sue forme noi qui abbiamo tanta violenza che è una forma di morte ecco abbiamo violenza intorno a noi violenza nelle relazioni le fatiche tutte queste nostre relazioni divise sono una forma di violenza anche di morte insomma il mio desiderio è che si possa fare un gesto insomma fare qualcosa che ci faccia comprendere che almeno nel nostro stile noi cristiani insomma ancora oggi crediamo nella vita.